I fondi non sarebbero sufficienti per riqualificare il centinaio di scuole comunali presenti nel territorio di Messina. È per questo che Palazzo Zanca ha dovuto attuare una nuova gara d'appalto per 65.000 euro da distribuire anche per gli interventi in quelle scuole come la Tommaseo, che non era stata compresa nell'elenco dei plessi a rischio crollo. A dirlo è l'assessore alla manutenzione immobili comunali Sebastiano Pino, la ditta deve solo firmare il contratto. Questi lavori dovrebbero partire dalla prossima settimana e concludersi entro fine anno. Intanto i genitori dell'istituto elementare di via Centonce 76 si preparano a protestare il prossimo lunedì. Le criticità riguardano 18 istituti che necessitano la ristrutturazione dei solai con una cifra già stanziata di 90.000 euro. Di questo elenco molte le strutture del centro sudurbano come la Pirandello, i plessi chiusi si sono impennati al numero di 6. Due giorni fa si è aggiunta anche la scuola Leonardo Da Vinci in località Santa Margherita a Ponte Schiavo. L'esponente dello staff a Corinti chiama in aiuto il Ministero dell'Economia. Il precedente cronoprogramma ha predisposto come avvio lavori la scuola Granata di Contesse e gli istituti di Milis San Marco e Zafferia. Diversamente l'adeguamento sismico della Paino e di altre scuole con cemento depotenziato richiederanno lavori lunghi e costosi da milioni di euro. Gli interventi sono già in corso da ieri alla scuola Enzo Drago e in settimana abbiamo già programmato gli interventi sulla scuola di Ponte Schiavo, la Leonardo Da Vinci e poi man mano si faranno sugli altri plessi interessati. Su questa partita delle 18 scuole l'amministrazione comunale ha messo a disposizione dal bilancio comunale 90.000 euro per gli interventi di messa in sicurezza in maniera da scongiurare sospensioni ulteriori di attività scolastica. Saranno effettuati naturalmente solo gli interventi di messa in sicurezza al momento perché per il ripristino di tutte le criticità emerse da queste verifiche sui elementi non strutturali quindi sui soffitti, contro soffitti e carichi sospesi servirebbero complessivamente 450.000 euro per cui al momento si può intervenire con i fondi comunali solamente per la messa in sicurezza. Altra questione è le questioni legate alla vulnerabilità sismica e quindi legata la chiusura della scuola Paino. La scuola Paino è stata chiusa con ordinanza del sindaco perché le verifiche strutturali fatte hanno evidenziato la presenza di cemento depotenziato. Cioè la scuola è stata costruita in maniera criminale con cemento depotenziato. Quindi la scuola è stata chiusa con ordinanza e assieme alla direttrice didattica abbiamo individuato le soluzioni per dare continuità al servizio scolastico. C'è una notizia senza allarmare nessuno preoccupante. In effetti a Messina le uniche due scuole che hanno passato l'esame per l'adeguamento sismico sono la Salvo d'Acquisto e la Manzoni. Sì, dunque a Messina sono state adeguate al rischio sismico solo due scuole al momento. Altre tre sono state ammesse a finanziamento dalla Protezione Civile Nazionale. Grazie a tutti.